Accomodati En, vieni, il nostro ospite Caro John, permettimi di presentarti mia moglie En En, il signor Merrick Piacere di conoscere la signor Merrick Io, io, io Sono il lieto di Che c'è? Che succede? È solo che Non sono abituato Ad essere trattato così bene Da una signora così bella Le preparo una tazza di te, signor Merrick Sì, ti prego Ti faccio vedere il resto della casa Vieni Ti piace? Molto buono Sono colui felice di essere venuto qui Sì, siete stati molto gentili ad invitarmi a casa vostra Mi dispiace di aver dato lo spettacolo di me prima No, no, figurati Mi piace il modo in cui avete sistemato le fotografie Ah, grazie È così che le sistemano anche gli altri? Sì, presto a poco così E chi sono? Questi sono i miei genitori E quelli sono i nostri figli Figli? Posso vederli? Sì, certo Dove sono adesso? Beh, adesso sono usciti con degli amici Amici? Questa invece è la madre di Frederick E questi sono i miei genitori Hanno un aspetto veramente nobile Sì, è vero, anch'io Penso lo stesso quando li guardo Vuole... Lei piacerebbe vedere mia madre? Tua madre? Sì, certo Oh, ma... Signor Mary, che bellissima Oh, lei ha... Lei ha un viso d'angelo, non è vero? Devo essere stato... Una grande delusione per lei No, signor Mary, no, no Un figlio così affettuoso non può essere una delusione Se potessi riuscire a trovarla Se potessi vedermi con dei buoni amici E qui, qui, adesso Forse potrebbe amarmi anche così come sono Ho cercato tanto di essere buono Mi scusi Mi ricresce La prego No, mi scusi Oh, la prego, la prego E qui, adesso... E qui... E qui. E qui... E qui...